Primatista mondiale under 20, argento mondiale indoor, argente europeo e soprattutto bronzo olimpico. A soli 19 anni Mattia Furlani ha già scritto pagine indelebili nell'atletica, consacrandosi come uno dei migliori giovani talenti del mondo. Un orgoglio per la studentesca Milardi, che domenica prossima al Cinema Moderno di Rieti celebrerà Mattia e molti altri atleti di casa, in un galà dedicato ai successi del 2024. Furlani ha conquistato i riflettori grazie a risultati straordinari, il suo record mondiale under 20 nel salto in lungo e le medaglie ai massimi livelli lo hanno portato tra i tre finalisti del Men's Rising Star Award di World Athletics, il premio per il migliore atleta under 20 del 2024. Illizza con lui il giamaicano Jadon Ibert e l'olandese Nils Laros, ma i traguardi del giovane italiano lo rendono uno dei candidati favoriti. La stagione di Furlani, che ha brillato dagli europei di Roma fino ai giochi di Parigi, è stata caratterizzata da prestazioni che hanno realizzato i suoi sogni e quelli di chi ha creduto in lui. Il primo dicembre il verdetto di World Athletics decreterà il vincitore, ma per Rieti e l'Italia Mattia è già un campione d'applausi.